Sono tre i fronti su cui la Caritas diocesana di Arezzo si è attivata per il popolo ucraino. Per chi volesse donare offerte in denaro è possibile farlo con un bonifico sul conto corrente intestato alla diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro, oppure in contanti direttamente presso la Segreteria Generale della Curia Vescovile. Il secondo fronte è quello della raccolta di vari generi di prima necessità. Sono richiesti sacchi a pelo, asciugamani, coperte, imbustati, alimenti non deperibili, detersivi e prodotti per l'igiene personale per i neonati. Il centro di raccolta è presso la Caritas diocesana di via Fonte Veneziana ad Arezzo oppure presso le Caritas parrocchiali. Infine l'ospitalità dei profughi che arriveranno. Chi desidera aderire può offrire l'opportunità di alloggio e può mettersi in contatto direttamente con la Caritas che risponde allo 05 75 35 47 69.